Io sono Peppa Pig E questo è il mio fratellino George Questa è Mammina E questo è Papino Peppa Pig Zo è Zebra la figlia del postino Il signor Zebra sta consegnando la posta a casa di Peppa Zo è Zebra oggi fa il giro insieme al padre Ha delle lettere da consegnare Danny Cane, Susy Pecora, Rebecca Coniglio Ah, Peppa e George Adesso mancano solo queste Bene, allora andiamo a consegnare Sì, papà C'è posta! Peppa e George adorano ricevere posta Ci sono arrivate due lettere Vediamo, questa è per papà Che bello, cosa sarà? Gentile signor Pig deve pagare la bolletta del telefono Oh! Che cos'è una bolletta? Dal nome mi sembra molto noiosa Oh, effettivamente è parecchio noiosa Mamma, l'altra lettera invece è per te? No, i destinatari sono Peppa e George Wow! Una lettera soltanto per noi! Siete invitati alla festa del mio compleanno Un bacio, Zoe Zebra Zoe Zebra ha mandato una lettera d'invito a tutti i suoi amici Evviva! Ora dovete scrivere a Zoe una risposta Per dirle che andrete con piacere alla festa Puoi aiutarci a scriverla, per favore? Certo, tesoro Peppa e George scrivono una risposta a Zoe Allora, che cosa le vuoi dire? Cara Zoe Cara Zoe Adesso non so più come continuare Che ne pensi di... ci piacerebbe molto venire alla tua festa Cordiali saluti, Peppa e George Bambini, che colore preferite per la busta? Voglio la rossa Signorina, Zoe Zebra Bene, e adesso il franco bollo La lettera è pronta per essere imbucata Questa è la cassetta postale Ecco Danny, Susy, Pedro, Rebecca ed Emily Elefante Stanno imbucando le loro lettere Ed ecco Peppa con la sua busta Fatto E adesso che cosa succede? Buona giornata a tutti Ciao Peppa Ti è arrivata la lettera d'invito alla mia festa? Sì E ti ho anche scritto una risposta, sai? Oh, che bello Guarda un po' qua Quante lettere devo recapitare oggi Zoe, vedi? Questa è la mia Ed è davvero molto, molto importante È quella che hai scritto a me Posso aprirla adesso? Sì, Zoe È indirizzata a te Ma prima di fartela leggere ho il dovere di consegnarla È così che funzionano le poste Oh E visto che a quanto pare oggi avrò un sacco di lavoro È meglio che inizi a darmi da fare Scusi, possiamo venire anche io e George? Ma certo, forza, saltate su Ci vediamo dopo Peppa e George aiutano il signor Zebra a consegnare la posta Questa è la casa di Zoe Zebra Questa lettera è indirizzata alla signorina Zoe Zebra Per la signorina Zoe Zebra Zoe Zebra Zoe Zebra Zoe Zebra Queste lettere sono tutte per Zoe Quella che hai in mano è la mia La lascia imbucare a me? Ma certo, tieni Peppa adora imbucare le lettere Mamma, guarda Mi sono arrivate un sacco di lettere Oh, ma è fantastico Me le leggi, per favore Cara Zoe, sarei felice di venire alla tua festa Firmato Danny Cane A quanto pare ha accettato l'invito anche Susi E Rebecca, Pedro, Emily, Candy Sembra proprio che ci saranno tutti Tieni Zoe, questa lettera è da parte mia C'è scritto Verremo alla tua festa con piacere Un grosso abbraccio da Peppa e George Sono tutti qui per la festa di Zoe Buon compleanno, Zoe Wow, quanti regali che ho Dovrai scrivere molte lettere per ringraziarli tutti E' indovina che è il fortunato che dovrà andare in giro a consegnarle tutte Tu, papà, ovviamente Ma io ti aiuterò Ciao Mia